Guarda che basta, mille e cinque E' il gruppo allungato ai 500 metri Anna e Quastro da Vicenza I studenti ritrovati per gli appuntamenti Internazionali Unione al Salmo E' il gruppo allungato ai 500 metri I studenti ritrovati per gli appuntamenti internazionali Unione al Salmo Il migliore Il migliore Passaggio sostenuto 10020 per i ragazzi del 2005 Un'epoca 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 In mediana nel peso Valerie Adams per il suo quarto lancio Quinto E' un'epoca 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 2-0-1-8 passaggio di 800 per la gassi del 1.500 mentre nel triplo ottimo salvo via Shalika Thomas la giornata in Cana si è portata al comando con 14.46 il suono della campana bene ragazzi del 1.500 e applausi dell'Olimpico è ancora il quarto che possono votare per la vittoria in questo 1.500 i Uniones mentre il salto triplo con un po' di 5.46 per Shalika Thomas ha questo grande rischio di amore per il 10.06 e la gara di Monta è il comprovato il giro di Casini il giro di Roma il giro di Roma è il campionato per le 10.000 che si fa molto bene in questo momento la gara di Monta Casini è il giro di Roma e il giro di Roma è il giro di Roma grazie a tutti